Bentornato, oggi lo diamo al segretario del ciclo club 77 di Guidizzolo, di nuovo con noi Adriano Roverselli, bentornato. Buongiorno a voi e a tutti i radioscoltatori, grazie dell'invito, io sono stato qua un mese fa e vi ringrazio appunto perché sedere su questa poltroncina dove passano tanti personaggi dello sport, della chiesa, della politica e ovviamente anche del volontariato, io faccio parte di questa categoria qua, quindi parliamo di ciclismo giovanile, io mi presento, sono il segretario, diciamo il factotum di questa associazione che raggruppa una trentina di ragazzini che ovviamente gareggiano in bicicletta, facciamo allenamenti un paio di volte alle settimane e poi alla domenica li portiamo alle gare, abbracciamo tutte queste regioni limitrofe dal Trentino al Toadige dove eravamo domenica scorsa, all'Emilia Romagna, ovviamente sul Bresciano, sul Bergamasco, così sono quelle province dove il ciclismo è molto più sentito, insomma qua siamo in una zona dove non è che il ciclismo giovanile sia per così dire diffuso, abbiamo solo due società, adesso se ne è aggiunta un'altra che abbiamo appunto dato noi diciamo le iniziative per partire, è una società di Borgoforte che si chiama Tato Bike, l'abbiamo iniziata si può dire noi perché il nostro direttore sportivo si fa a metà appunto con questa società di 4-5 ragazzini, speriamo che se ne aggiungano altri, il bacino ce l'hanno perché da Mantua a Giù, Basso Mantovano non c'è nessuno, prima eravamo noi, noi e la Mincio Chiesa e l'ex San Pellegrino per intenderci e adesso se ne è giunta un'altra, speriamo che ce ne siano altre che si mettono in tiro perché qua ci sono tanti amatori nelle nostre zone che li troviamo anche la domenica sulle strade, ma appunto per questo hanno il bambino magari che vorrebbe provare a correre e loro hanno la passione di andare in bici e lo sanno che devono rinunciare, portare il bambino. Tra l'altro amatori che io vorrei spezzare una lancia adesso a parte tutto nei loro confronti perché è vero che ci sono i grupponi di rompiscatole perché l'aveva detto lei la volta scorsa, aveva lanciato l'appello da ciclista ai ciclisti, mettetevi sulla destra e tutto, però devo dire che si sono migliorate la situazione e trovi molte più file indiane e molti meno grupponi. Anche perché purtroppo succedono tanti incidenti, noi l'anno scorso ne abbiamo denunciati come comitato provinciale 33, quindi quando uno cade che si fa male e gli altri stanno molto più attenti, sanno che ruotarsi è facile, quindi fare gli imbecilli dove c'è anche traffico non rende, non rende perché se uno vuole fare le corse va a fare le corse amatoriali e lì si mette il numero sulla schiena e la cosa cambia, ma se vogliono fare gli agonisti sulle strade non va bene. Una cosa brevissima, in una battuta, erano fuori programma, perché è così difficile fare un pronostico sulle corse ciclistiche? Cioè io potrei chiedere, pronostico sul Giro d'Italia, chi vincerà secondo lei? Però io non da Adriano Roverselli, ma da tutti, dai De Zan, Generazioni eccetera, ho sempre sentito sbagliare, non so, ai tempi in cui c'era Mosera dicevano che il Giro d'Italia è fatto su misura di Mosera e poi vinceva Saronni, cioè regolarmente non... Ma adesso è molto più difficile fare dei pronostici perché ci sono squadre super, io direi super perché hanno dei budget esagerati, hanno dei campioni all'interno che sono veramente dei grandi campioni, adesso ne cito qualcuno, se lo dico contador per citarne uno, ma ce ne sono diversi che possono vincere un Giro d'Italia o un Giro di Francia e a maggior ragione adesso vengono da tutte le parti del mondo, vediamo australiani, vediamo dal Congo, dal Sudan, vengono da tutte le parti del mondo, prima era più facile magari fare così, pronosticare uno dei nostri che poteva essere un Saroni o un Moser che avrebbero avuto veramente dei bei campioni, un Bugno, un Chiapucci, adesso è molto più difficile perché veramente c'è una preparazione esagerata, hanno veramente dei budget enormi e sono strutturati in maniera che una squadra di 20 corridori ne ha minimo 4 che possono essere competitivi. Eh certo, possiamo, allora voi adesso stiamo sul Ciclo Club 77, voi avete già ottenuto dei risultati notevoli tra l'altro che i vostri... Sì, io ho iniziato, si può dire ufficialmente abbiamo iniziato a Salso Maggiore il 3 di aprile, di fatti l'ultima volta che sono stato qua ai primi di marzo parlavamo appunto di riuscire a copiare la stagione 2015 che è stata straordinaria, invece posso dirvi già che con 4-5 gare ci siamo già messi in tiro per fare forse meglio, quindi abbiamo iniziato a Negrara, una gara importante che è il Paglio del Recciotto che era il 29 di marzo che è stata una gara internazionale per dilettanti, ma al mattino si chiamava Recciotto Sprint e i nostri hanno fatto un primo, un secondo e un quarto, quindi siamo andati benissimo a Salso Maggiore addirittura abbiamo stravinto, abbiamo portato 10 ragazzini sul podio su 22 che ne avevamo iscritti, stesso discorso prevale sul Bresciano, poi siamo andati a Montanara, poi siamo andati sul Trentino e direi che i risultati sono già piuttosto copiosi e importanti, insomma ripeto, le finalità di questa società non è portare il bambino a tutti i costi ad essere vincente, lo è per il corridore ciclista professionista, il direttante per il bambino, non deve essere per forza una logica di vincere a tutti i costi, certo che se il bambino si piazza, prende la coppettina, la medaglietta, si incentiva e ovviamente traina anche gli altri, anche quelli che non hanno veramente le capacità come magari a lui, insomma, perché ho visto che quelli che vincono un po' per volta poi gli altri cercano di copiarli, avete già dei dualismi tipo... Sì, ci sono sempre stati, tutti gli anni ne abbiamo, adesso ne abbiamo due che hanno dieci anni e si combattono tra di loro, amici rivali, amici rivali, direi che sono molto cattivi anche, tra virgolette cattivi in corsa, poi sono amici, giocano, ridono, scherzano, però in corsa non dico che hanno il coltello sotto la sella, però gli manca poco ecco. Ma si passa la borraccia anche loro? Sì, ma no, ma io dicevo cattivi dal punto di vista armonistico, non è che ci mancherebbe, no no, anzi sono... e questo è anche un lato positivo del nostro, dico importante impegno perché questi ragazzini altrimenti cosa fanno? Io li vedo, prendono in mano il telefonino, il tablet, il computer e si concentrano solo su quelle stupidate, ovviamente ci sono anche cose importanti, però fare sport e ovviamente anche l'alimentazione che devono seguire, tutto il resto, noi non è che gli facciamo una dieta precisa, però è un'educazione alimentare, insomma li teniamo lontani da questi aggeggi che non è che fanno bene. Esatto, allora lei ha parlato di bambini, cioè chi è che si può rivolgere al Ciclo Club 77? Ma possono rivolgersi a me, io rispondo a un numero di telefono che è anche fax, 0376-818189, vi do anche il cellulare, 320-7243912. Ecco poi lì ripeteremo, non vi preoccupate, anche la me si, diamo anche la me si, sì va bene, diamo anche... Ciclo Club 77, i due numerini, chiocciola, libero.it, libero. Allora, però dicevo, da che età? Noi li seguiamo dai 7 ai 12 anni, in categoria giovanissime si chiama. Ecco, se c'è qualche papà, qualche mamma, più facilmente papà magari che ci ascolta in questo momento, di sotto portano i papà a fare sport. Sì, ma ne abbiamo anche di Castiglione, direi che sono stato veramente soddisfatto di una prestazione di un ragazzino di Castiglione, che il nonno era talmente entusiasta, un amatore, e gli fa, ma il mio ragazzino qua, dice mio nipote, sarà capace di arrivare tra i primi? Domenica scorsa ha fatto terzo, quindi è stata una grande festa. Assolutamente. Ebbè, ma sa che qua a Castiglione abbiamo le colline a salire. Sì, sì, qua ci sono i posti dove si può allenare. Piccoli pantani ci sono. Dunque, per quanto riguarda, Pantani era di Pianura, tra l'altro mi pare. Pantani era di Cesenatico, però le montagne se le aveva dietro casa, si può dire. Per quanto riguarda il, ecco, ecco, magari qualche papà o qualche mamma ci sta ascoltando in questo momento e dice, sì, però sai cosa costa una bicicletta e la corsa? Sai quanto? Cioè, ecco, no, andate a Guidizzolo, poi ripeteremo le coordinate, perché? Perché voi date... Sì, noi, forse siamo una delle poche società, lo dico ad alta voce, perché questo me lo permettono gli sponsor che abbiamo, e ce ne sono tanti anche di Castiglione, importanti, noi non facciamo pagare niente, né di iscrizione, né di abbigliamento, né di bicicletta, né casco, né scarpe, tutto quello che serve lo diamo, ovviamente anche la tessera la diamo gratuitamente, quindi non c'è nessuna tassa da pagare, insomma. Quindi uno dei motivi appunto per cui andare al ciclo club 77 di Guidizzolo è proprio questo, il fatto che voi date addirittura la bicicletta incomodata. Sì, noi, guarda, posso citarti un esempio, abbiamo fatto iniziare una squadretta sul Veneto, abbiamo prestato biciclette materiale, avevamo raccolto una ventina di bambini che volevano iniziare, la società ovviamente si era presa a questo impegno, però poi hanno visto che i soldi che avevano raccolto erano pochi, hanno chiesto 100 euro a ogni famiglia, di 20-22 ragazzini sono rimasti in 5 e poi hanno chiuso bottega, ecco questa è la storia. Non è che i 200 euro, i 150 cambino la vita, però magari al calcio li spendono più volentieri, ciclismo, siamo su questi termini qua, insomma, ciclismo e altri sport, magari non so, per dire mandare il ragazzino in palestra o a nuoto o a calcio, è più facile che mandarlo a fare ciclismo, questo lo devo dire, purtroppo questo è un mio rammarico, ma ripeto, io ne ho 25 di ragazzini, non è che ne posso gestire 50, però qualcuno in più, se ci fosse magari anche Grandicello, mi farebbe comodo. Ed è qualcosa che francamente non si capisce, magari lo vediamo adesso tra pochissimo, ci fermiamo un attimino con il segretario del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, Adriano Roverselli, ci troviamo tra un po' di minuti, torniamo subito. Il Ciclo Club 77 di Guidizzolo, si parla di ciclismo, stavamo fuori onda dicendo che lo sport deve essere divertimento principalmente, giusto? Eh sì, è importante, specialmente per l'attività giovanile, perché il bambino, il ragazzino, deve crescere in maniera armonica, non deve diventare un Hulk, insomma, lo sport è salute, lo sport è divertimento, è correggere l'alimentazione, evitare quelle che sono purtroppo le insidie della nostra società, il fumo e tante altre cose che è inutile che stia qua a citarle, che le conosciamo. Certo, guardi qua, Nibali, 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 sta per partire, adesso sta partendo il giro in Italia, speriamo che si riesca a fare qualcosa di buono veramente. Perché non fate anche mountain bike e cross? Ma mi pare che mountain bike la fate, cross? Allora, mountain bike, io comincio i primi di febbraio, quei ragazzini li porto sulle colline, sabato o domenico ovviamente, quando c'è bel tempo, prima della stagione, organizzo una gara di mountain bike a volta a Mantovana, sempre per ragazzini, e poi purtroppo, essendo sempre in giro, più di tanto non riesco a fare, mi ci vorrebbe qualcuno che mi dà una mano, ma è difficile. Ciclo cross, questa disciplina eroica, a mio giudizio, perché è capace di fare tutta la gara correndo con la bici in spagna. C'è anche poi un problema anche dei media nazionali che non seguono gli sport, tante volte, magari ci sarà gente che non sa neanche che cosa sia il ciclo cross. Il ciclo cross è una disciplina che sul Veneto per esempio è molto diffusa, è molto partecipata, anzi organizzano anche campionati italiani e anche europei. Qua, tolto l'amico Armanini che organizza, che è un vecchio ciclista appunto, che faceva un ciclo cross, tolto lui che organizza da tanti anni una bella manifestazione a Castellucchio mi pare, ma poi per il resto sì, siamo a terra. Allora le chiedono, ma possono venire anche i bambini di fuori paese? Io sono di Castel Goffredo e mi hanno detto che c'è un'associazione anche ad Asola. Beh, Asola non proprio, sì, è la minciochiese che è a sede Ceresara, io di Castel Goffredo ne ho quattro di ragazzini, fra l'altro anche un campione regionale, che ha vinto l'anno scorso i campionati regionali su pista. Poi, ciao Adriano, sono il Luca, dice, tu fai un lavoro nobile, come facciamo a far capire i valori ai ragazzi visto le iene? Abbiamo capito, è un'intervista di un ciclista, non lo facciamo pure noi, che ha parlato di un problema che, ne parlavamo tra l'altro fuori onda prima, si diceva in tutto lo sport, spaventosamente, ecco qua Enrico, dice, il problema del ciclismo è che sono pieni di doping legalizzato, no, legalizzato non so quanto sia, è di difficile reperimento, diciamo così, perché il doping è un problema che purtroppo non so se, è una piaga che non so se riusciremo a guarire, del tutto secondo me è impossibile, perché le industrie farmaceutiche ci lavorano giorno e notte per riuscire a, secondo me guadagnano di più a vendere prodotti dopanti che non le aspirine, secondo me, ma questa è una mia opinione personale, io l'ho sentita, ce l'ho sentita l'intervista di Luca, il mio parere è questo, un problema c'è, un problema c'è, c'è stato, esiste, adesso è un po' più difficile, con i controlli che ci sono, però purtroppo secondo me la medicina corre sempre più forte rispetto a, diciamo che il doping è un passo avanti rispetto all'antidoping, sì, rispetto all'antidoping, quello che trovano adesso secondo me è roba dell'anno scorso, le vicegracce, perché diciamo che se tu prendi una medicina A e l'antidoping cerca la medicina B, la medicina A non la trova, perché non è che tu guardi contro luce e dici a questo ha preso questa cosa qua, questo è il problema, secondo me è questo qua, dopo io non sono un medico, non posso parlare, io per quello che è di mia conoscenza posso dire che l'ho detto anche l'altra volta e lo ripeto, io ho avuto a che fare con dei genitori, perché nell'arco della mia vita diciamo così organizzativa, ho avuto tanti bambini che si sono presentati, ragazzini anche che adesso sono dilettanti, qualcuno ha già toccato anche la sfera professionistica, posso dire che il primo droghiere, uso questo termine, è il genitore, perché se ha un bambino di 7-8 anni, gli mette dentro una mocca di caffè nella borraccia, quando ha 18-19 anni che è dilettante, che gli propongono un delinquente comune, che può essere un medico, un paramedico, qualsiasi, gli propone una puntura che gli fanno i cavalli all'ipodromo, questa qua magari gliela fa. Il problema anche diceva appunto questo professionista, che se non fai uso di certe sostanze, non hai possibilità, zero, è questo un problema anche questo, sicuramente sono aiutati, ecco diciamo subito, sono aiutati, si ricorderà qualcuno per esempio di Nino Benvenuti, che fu sconfitto da Monzon, Monzon era strafatto, si è scoperto dopo per esempio, non sentiva niente per esempio, ma si è scoperto dopo però, intanto Benvenuti ho perso il titolo. Difatti tante sostanze, tante chiamiamole così, medicine che usano, sono proprio per alzare la soglia del dolore, più che dopo, vero e proprio, alzando la soglia del dolore, uno invece di andare a 45, va a 48 e non sente più la fatica, ecco questo è uno dei passaggi, poi ce ne sono altri, che purtroppo lì, i più ne ha più ne mette insomma. Ho fatto l'esempio pugilistico, proprio per vedere che non solo il ciclista dappertutto. No, beh, tutte le discipline purtroppo, non siamo... Allora, Lorenzo dice, Roversali, ci parli tanto dei giovani nibali, avete dei giovani nibali? Ma io, devo dire che nella mia squadretta, ho avuto 4-5 ragazzini, che veramente sono stati dei bei atleti, uno è Bresciani, che è dilettante nella Zalf, che ha già vinto su 7-8 gare, ne ha già vinte due, ha fatto due secondi e un quarto, sono andato a vederlo a Roma, all'internazionale, non è andato nella fuga giusta, purtroppo si è un po' incantato, però direi che come atleta c'è, può darsi, dico può darsi, spero anche che passi professionista. Che cosa interessante che ha detto, noi vediamo sempre le fughe, voi insegnate una forma di strategia, quando, a quanti, perché tante volte molti si bruciano, prima con la fuga. Ma infatti noi ragazzini, purtroppo quando facciamo le gare in circuito, aspettano tutti la volata, perché sanno che è lì dove si vince, si sta a ruota, io questa strategia qua non gliela insegno, sinceramente, gli dico non spendete più di tanto, tenetevi sempre un po' la riserva, però se dovete fare la fughettina, fatela pure. Anzi, la settimana scorsa sono andati in fuga in due, sono arrivati il primo e il secondo, ma è stata veramente una bella soddisfazione, il salso maggiore è uguale, sono andati in fuga in due dei miei, gli altri hanno fatto un po' di tampone, e questi qua se ne sono andati e hanno vinto. Io cerco sempre di sganciarli, certo che dopo, quando arrivano lì, che il gruppo gli si avvicina, perdono un po' anche la voglia di fare la volata, e magari non ne hanno più. È uno dei momenti più eroici, possiamo dirlo, assolutamente. Allora, c'è chi si firma, Valentino Rossi, dice, perfezionare la guida perché gli avversari si staccano anche in discesa e curva. Sicuramente bisogna imparare, Ciappucci era un discesista. Sì, anche Savoldelli è stato un grande discesista. Direi che la mountain bike insegna ad andare in bicicletta, perché specialmente nelle discese è un po' arduo, dove ci sono delle... Ecco, lì si impara a stare in equilibrio, si impara a schivare anche magari, non so, il ramo, la pianta e così, quindi si impara un po' a gestire anche un po' la bici, anche nel modo in cui bisogna appunto tenerla in equilibrio. Poi, non è fermato, questo dice, perché le bici da corsa non si mettono i freni da mountain bike che sono molto meglio, appunto di domanda? Ma adesso, per esempio, l'UCI ha fermato quello che è, diciamo, un'evoluzione della specie, ecco, i freni a disco per le bici da corsa che sono già, sulla mountain bike, già qualche anno che le usano. È successo un incidente, purtroppo li hanno fermati, ma io direi che il freno della mountain bike, se è a disco sulla bici da corsa con una protezione, perché è facile che quando cadono il freno a disco è un po' una lama, quindi se vanno a 50 all'ora cadono in 5 o 6 e questa qua ti arriva la ruota vicino, ti taglia via un orecchio, bene che ti vala. Quindi vedranno di cercare appunto di mettere delle protezioni per poter, però il freno a disco secondo me è una delle evoluzioni della specie. Guardi qua, Valerio, si può prendere il pane salame dell'alto mountain vano prima di gare o è doping? Allora, io posso dirvi che i miei ragazzini finita la corsa tagliamo proprio il salame e mangiamo pane salame, certo, non è che si può mangiare un mezzo salame, un paio di fettine non fanno male, anzi, direi che sono un toccasano. Adriano dice un altro messaggio, sei una grande persona che aiuta i nostri ragazzi a crescere, grazie a nome di tutti i genitori e a tutta birra, ciao. Grazie, grazie a tutti, siamo in chiusura, io comincio a ringraziare il segretario del ciclo club 77 di Guidizzolo Adriano Roverselli, vorrei chiedere un attimino una cosa, a parte che lei ha detto appunto che fornite tutto, incomodato, la bicicletta, la borsa, l'abbigliamento estivo, invernale, eccetera, eccetera, quindi tutto appunto gratuitamente, ma vorrei anche ricordare voi vi rivolgete ragazzini da che età a che età? Dai 7 ai 12 anni Dai 7 ai 12 anni e direi di ripetere le coordinate però, tutte quante, allora diciamo gli ascoltatori preparate carta e penna perché adesso ripetiamo appunto le coordinate per il ciclo club 77 di Guidizzolo che accoglie anche ragazzi che non vengono da Guidizzolo che non siano di Guidizzolo ma vengono da altri ne ho uno da Reggiolo per esempio e due da Quistello che sono iscritti con noi addirittura quindi da lontano sì 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 0376 818189 questo è telefono e fax 320 7243912 è il mio cellulare ciclo club 77 chiocciola libero.it è la mail benissimo grazie ad Adriano Roverselli ci faccio sapere insomma grazie a tutti voi è stato un piacere grazie grazie moltissimo